Questa è la correzione della verifica sull'agente limitante con due reazioni. La prima normale è una reazione di preparazione di un'anidride e la seconda invece include anche una redox. Partiamo dal bilanciamento. La reazione veniva data come reazione di preparazione dell'anidride bromica. Ovviamente i coefficienti stecchiometrici da inserire sono il 2, il 5 e il 2 per ottenere in totale di 10 ossigeni. Ricordatevi che si partiva da qua. Vediamo di colorare le specie. Facciamo in blu il bromo, in giallo l'ossigeno e in verde l'anidride. I dati a disposizione sono gli 80 grammi di bromo. La prima domanda chiedeva quante sono le moli a disposizione di bromo. Le moli a disposizione ovviamente si ricavano applicando la solita formula moli uguale grammi diviso il peso molecolare. E ottenevamo 0,50. Ecco, mi raccomando l'utilizzo delle cifre significative. Due cifre significative dopo la virgola. Quindi questo 0 è importante. Poi la seconda domanda chiedeva quali fossero le moli teoriche di ossigeno. Allora, io ve l'ho già svolto, vedete ve l'ho preparato. E avevo già anticipato quante erano le moli invece a disposizione. Le moli a disposizione si ricavano dai grammi, che sono 80. Si applica sempre la solita formula. Quindi le moli a disposizione di ossigeno sono 80 diviso il peso dell'ossigeno, che è 16 per 2. Attenzione che abbiamo due ossigeni, quindi 16 per 2. Ora, questo in realtà ci serve per la domanda poi successiva, che è chi è l'agente limitante. In teoria questo non era richiesto nel vostro test. Le moli teoriche di ossigeno come si ricavano? Si ricavano andando a lavorare, per sapere le teoriche rispetto di questo, da quelle a disposizione di bromo. Le moli a disposizione sono 0,50. I coefficienti di assicchiometrici da utilizzare sono il 2 e il 5. Quindi impostiamo la proporzione. 2 sta 5 come 0,50. Queste sono le moli che ho reali a disposizione del mio bromo. Stanno x. E quindi questo x, queste 1,25 moli, saranno appunto le moli teoriche di ossigeno. Cosa ci facciamo di queste moli teoriche? Andiamo a confrontarle, il solito ragionamento che oramai spero abbiate tutti imparato. Queste moli teoriche le vado a confrontare con quella a disposizione. Ricordatevi che stavamo lavorando con le nostre moli gialle. Molli gialle di ossigeno a disposizione, moli gialle di ossigeno teoriche. In questo confronto che cosa possiamo asserire? Che avendo a disposizione 2,5 moli di ossigeno e teoricamente, cioè in base ai coefficienti secchiometrici, dovendone aver bisogno di 1,25, è ovvio che le teoriche sono inferiori a quella a disposizione. Quindi possiamo ricavare, possiamo dedurre che il nostro ossigeno è l'eccesso. L'eccesso è O2, ripeto, avendo il quantitativo delle moli a disposizione, 2,5, superiore a quello invece della ricetta. Queste sono le teoriche. Le teoriche ricordatevi che le chiamiamo sempre anche stecchiometriche o, se vogliamo, della ricetta. Quindi la ricetta mi chiede 1,25 moli, io ne ho di più, è ovvio che l'ossigeno avanza. Se l'ossigeno avanza, il limitante è l'altro componente. Quindi l'ossigeno è in eccesso, se volete lo possiamo scrivere qua. Conseguentemente, l'agente limitante è il nostro promo. Quindi la domanda qual è l'agente limitante? L'agente limitante ovviamente è BR2. Ora, sull'agente limitante, che io vi consiglio sempre di evidenziare, quindi l'agente limitante una volta individuato, scrivete sempre qui una marca e andate a cerchiare il componente su cui fare i conti. Quindi questo 0,50 è il componente importante che ci serve. Noi adesso dobbiamo ricavare il quantitativo di anidride che si formerà. Per trovarne ovviamente i grammi, quindi la domanda, mi sono dimenticata di inserirlo, era questa, trovare i grammi di anidride. Per trovare i grammi dovremo prima lavorare sulle moli. Coefficienti che ci servono, quello dell'agente limitante, 2, quello del prodotto voluto. Come vedete i coefficienti sono gli stessi, quindi impostiamo la proporzione 2 sta 2, come, occhio che questo valore è il valore che avevo cerchiato qui, dell'agente limitante, ok? Come 0,5 sta x. Questo x risulta essere ovviamente identico, quindi 0,5, e questa volta sono le moli di BR2,5. È ovvio che avendo il coefficiente 2 nel reagente e 2 nel prodotto, se le moli di bromo, come abbiamo visto, sono 0,5, è ovvio che anche quelle di anidride saranno 0,5, sono le stesse palline, ok? Il peso però sarà diverso. Il peso sarà dato dal nostro 0,5 per il peso di BR2,5, che è dato dalla somma dei due bromi, e quintuplicare gli ossigeni. Il totale sono 120 grammi. Poi c'era la domanda, chi avanza e quanto ne avanza? È ovvio che se abbiamo detto che l'eccesso è l'ossigeno, quello che avanza è l'ossigeno. E come si calcola? Ecco, su questo vi so ancora che ci sono dei dubbi. Per trovare, qui è scritto un po' male, scusate, le moli di ossigeno, ossigeno perché? Perché abbiamo detto che è lui l'accesso avanzate, si effettua semplicemente la differenza tra le moli a disposizione meno le moli teoriche. È ovvio, come avevamo detto prima, che se quelle a disposizione sono superiori alle teoriche, la differenza tra quello con cui parto, che è quello che ho, meno quello che mi richiede la ricetta, mi dà quello che avanza. Quindi queste 1,25 moli sono il risultato di quelle da cui partiamo e quelle che ci servono nella reazione. Il risultato è 1,25, io volevo sapere i grammi, 1,25 va moltiplicato per il peso del mio componente. Il componente, essendo l'ossigeno fatto da O2, è un 16 per 2, quindi avanzeranno 40 grammi. Seconda reazione, ovviamente partiamo senza avere questi coefficienti stechiometrici. La reazione era da bilanciare, era una redox. Prima cosa da fare è inserire gli statox. Allora, più 2 per il ferro, perché è un cloruro ferroso, più 3, perché questo è un cloruro ferrico. È ovvio che in questo gap da più 2 a più 3 c'è un aumento dello status e quindi questa è la mia reazione di ossidazione. Viceversa, l'azoto passa da un più 5, ricordatemi abbiamo 3 ossigeni, 3 per meno 2 fa meno 6, più 1 dell'idrogeno, l'azoto viene più 5, che va invece a convertirsi in un più 2 di questo NO2. Allora, il salto elettronico, in questo caso del mio azoto, è da più 5 a più 2, che è di più 3. Come vedete, impostiamo le due semireazioni. La prima semireazione l'abbiamo trascritta, avremo scritto FCl2, che va FCl3. Il salto è di un elettrone, lo scriviamo qui, lo bilanciamo subito con un H+, qui ci sono 3 clori, qui solo 2, aggiungiamo il cloro sotto forma di HCl, e la reazione è bilanciata. Questa ovviamente è la nostra semireazione di ossidazione. L'altra, che dà acido nitrico, va a un monossido di azoto, N-I-O. Non so perché ho scritto, c'è questa I che mi ha tratto in inganno, ho sbagliato a trascriverla, ragazze, scusatemi. Allora, questo è un N-O, monossido di azoto, sembra un nickel. Allora, l'azoto passa da più 3 a più 2, scusate, da più 5 a più 2, quindi 3 elettroni in gioco. 3 elettroni li bilanciamo con i 3 H+, questo è molto più semplice, 3 più un quarto idrogeno, quindi 2 di acqua. E questa è la nostra semireazione di riduzione. Andiamo a scrivere qua red. Ora, il minimo con un emultiplo è tra un elettrone e 3 elettroni, quindi ovviamente il minimo con un emultiplo è 3. Qui moltiplichiamo più 3, qui lasciamo per 1. Quindi la reazione bilanciata compare con questi coefficienti. 3, 1 di acido nitrico, 3 di nuovo di acido cloridrico, ovviamente gli elettroni gli H+, se ne andranno tutti. E a questo punto mi rimangono 3 di cloruro ferrico, 1 monossido e 2 di acqua. Allora, la prima domanda chiedeva di riconoscere chi era il componente in eccesso. Attenzione al tranello in cui siete cascate in tantissimo. Siccome i dati erano 19 g di cloruro e 9 di acido nitrico, commettei i salami, siete caduti, dicendo che siccome qui ce n'era di più, l'eccesso era di cloruro. No, noi l'eccesso lo guardiamo non sui quantitativi in grammi, ma sulle moli. Quindi la prima cosa da fare era convertire questi 19 g nelle sue moli. Lo faccio sempre con i colori che a me viene più facile, secondo me riuscite a capirlo meglio. Allora, facciamo l'FCL2 giallo. Quindi i miei 19 g mi servono per trovare le moli a disposizione di FCL2, che vengono 0,15. Cambiamo colore, facciamo in blu l'acido nitrico, ne abbiamo 9 g, vediamo le moli a disposizione dei nostri 9 g di acido nitrico e viene 0,14. Come prima, ora confronterò le moli a disposizione con le teoriche di acido nitrico. Occhio che, per trovare le teoriche di acido nitrico, utilizzerò i coefficienti 3 e 1. Quindi la proporzione, se volete, che qui non vedete, ve la aggiungo, sarebbe 3 sta 1, come 0,15 sta a x. Ah già, ma eccola qua. Ok, già fatta. Questo ci permette di trovare le moli teoriche. Quindi le nostre moli teoriche, ora le confrontiamo, quindi questo non serviva, c'era già, le confrontiamo con le moli a disposizione e ovviamente andremo a vedere che le moli a disposizione 0,14 sono nettamente superiori alle moli teoriche. Quindi possiamo concludere, analogamente a prima, che il nostro acido nitrico risulta essere l'eccesso. Mi raccomando, se un componente è l'eccesso, è ovvio che l'altro sarà quello invece che si consumerà tutto, quindi l'agente limitante, ovviamente, è FCl2. che sarà quello, ricordatevi, su cui faremo poi i calcoli. Quindi il nostro eccesso era l'acido nitrico. A questo punto volevo sapere quanta acqua si sarebbe formata. Allora, attenzione, lavoriamo sull'agente limitante, rimettiamo i puntini evidenziando l'FCl2. L'FCl2, ovviamente, come coefficiente stecchiometrico al 3, che lo devo confrontare col 2 dell'acqua. impostiamo la proporzione 3, ripeto, il coefficiente del nostro agente limitante, sta a 2, che è quello dell'acqua che vogliamo trovare, come 0,15 è il quantitativo del limitante, quello su cui fare i conti, sta a x. x sono 0,1 che sono le molli di acqua ottenute. Ovvio che per trovare i grammi, sempre la formula inversa, i grammi sono le molli per il peso molecolare. È ovvio che il peso molecolare dell'acqua è dato da due idrogeni più un ossigeno e quindi mi vengono 1,8 grammi. Le molli avanzate saranno le molli, ovviamente, del nostro componente in eccesso, quindi saranno le molli di acino nitrico. Come abbiamo visto nel problema precedente, è la stessa identica cosa. Visto che quelle a disposizione sono 0,14, quelle della ricetta sono 0,05, effetto semplicemente una differenza tra quelle a disposizione e quelle teoriche. Il risultato 0,09 moli mi dice qual è il quantitativo in moli, ok? Prima vi avevo chiesto in grammi, qui bastava il risultato in moli. 0,09 sono le moli che avanzano di acido nitrico. Chiedessi i grammi sarebbero questi 0,09 per il peso dell'acido nitrico. La specie riducente, allora anche qui attenzione, riducente non è colui che si riduce, la specie riducente è colui che si ossida. Quindi la specie riducente è la nostra specie che aumenta lo stato, per cui è ovvio che sia il ferro che da 2 saliva a 3. Vedete? È quella che si ossida. Quello che si ossida è il riducente. La specie riducente è quella che si ossida. Quella che si riduce invece si chiamerebbe specie ossidante. Ok? Va bene, spero che sia sufficiente e che finalmente abbiate capito le cose. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata!